Siamo qui con mister Nicola Corestini al termine della match amichevole Castelbaldo Cerea 2 a 2. Partita vera e con non poche difficoltà, quindi da partita quasi di campionato Nicola. Sì, lo sapevamo, lo immaginavamo, giocare con squadre di categoria inferiore che sono qua vicino a noi, vengono qui, ci tengono, come giusto che sia e come speravo fosse. Manca una settimana nella prima partita ufficiale, quindi era giusto prepararci con una partita così. Abbiamo avuto difficoltà più che altro nel trovare spazio, loro hanno fatto due tempi nel loro metà campo a difendersi, hanno provato a ripartire in contropiede e abbiamo sbagliato sulla marcatura sull'angolo. Siamo entrati male, dopo 30 secondi di secondo tempo abbiamo preso gol su un errore singolo. Ci può stare in questo momento di pre-campionato e abbiamo lavorato tanto in queste settimane. Adesso andremo a lavorare sui dettagli la settimana prossima e saranno pronti per domenica prossima. Il lato positivo che ho visto della squadra è che non ha mai mollato nemmeno sul 2-0, con un caldo che si è fatto sentire, quindi una buona reazione 0-2-2-2 facendo numerosi cambi. Sì, a me sinceramente non stavo pensando ai risultati in quel momento lì perché volevo soltanto che la squadra continuasse ad andare. Essere sotto era quasi una cosa positiva in maniera tale che abbiamo continuato a correre fino all'ultimo secondo e iniziare subito da adesso recuperando uno 0-2 negli ultimi dieci minuti è un buon segnale, è un buon segnale che la squadra ha carattere, è un buon segnale che l'abbiamo recuperata, che hanno messo dentro tanti giovani e speriamo di continuare così. Siamo qui con Claudio Berlini, allenatore dell'Atletico Cerea, prima esperienza in prima squadra, abbiamo visto oggi un Cerea molto determinato che ha venduto cara la pelle fino praticamente a dieci minuti dalla fine. Claudio, ti è piaciuto? Sì, la mia squadra ha riproposto in campo quello che abbiamo preparato in questo mese di preparazione, sono molto contento delle prestazioni che hanno fatto i ragazzi e soprattutto l'impegno che ci hanno messo contro una squadra di categoria superiore e anche una bella squadra perché nulla da dire che Castelbaldo è una bellissima squadra, i ragazzi secondo me hanno fatto molto bene. Tanto caldo oggi, una rosa un po' ristretta e alla fine abbiamo faticato ma anche per la bravura proprio dell'altra squadra. Leggendo la formazione dell'Atletico Cerea ho visto veramente tanti giocatori di qualità, non vorrei saltarne qualcuno ma quelli che mi vengono in mente da Pauletto a Calvetti, ai fratelli Boscaro, a Marvi Favalli. Questo Cerea, il campionato di promozione che inizierà la settimana prossima, che ruolo vuole ricoprire? Non ci siamo ancora posti la domanda perché ci stiamo conoscendo, come dici tu sono tutti giocatori che hanno fatto la categoria della promozione e anche l'eccellenza, diciamo che il rookies sono io, quello che deve imparare la categoria. Però i ragazzi mi seguono, è un gruppo fantastico, non ho nulla da dire dopo un mese, si aiutano tutti, vedi che sono anche giocatori di grande intelligenza, grande intelligenza nei confronti dei giovani. Non so se hai visto la formazione, oggi avevamo 6-7 anche giovani, abbiamo 3-2003 e questi giovani piano piano crescono proprio perché i nostri giocatori più, diciamo anziani, non sono anziani, gli danno una grande mano, si mettono a disposizione dei giovani nostri. Bene Claudio, io ti faccio un grande in bocca al lupo per l'inizio del campionato che parte domenica prossima. Grazie mille, crepi il lupo e auguro un bellissimo campionato anche a Castelbaldo, che è una città a cui io sono molto legato e mi piacerebbe molto, incrociamo le dita, che realizzasse il suo sogno. Bene, auguri a tutti. Grazie Claudio. Grazie a tutti.